Marco Odisio è uno dei tanti giovani che ha seguito questo convegno, questo congresso nazionale Ion Giovani 2024. Un convegno importante. Cosa ti porti a casa? Mi porta a casa un sacco di sessioni interessanti su temi non banali, a volte legati a noi giovani, ad esempio il tema sull'oncologia di genere oppure temi sull'oncologia di guerra o sull'end of life di queste sessioni particolari, oltre a varie sessioni educazionali molto interessanti, molto importanti per un giovane oncologo. È importante anche confrontarsi, fare amicizia, confrontare diverse esperienze. Sì esatto, assolutamente il networking è una cosa molto importante che succede molto spesso in queste occasioni. Ho incontrato delle colleghe che non vedevo da un po', ho conosciuto nuove persone, ho conosciuto nuovi colleghi con cui confrontarmi sia professionalmente sia personalmente, che ritroverò sicuramente ai prossimi congressi in futuro e che contatterò per occasioni professionali. È stato un momento anche a volte emozionante, tipo la consegna dei premi nella prima giornata, anche questi aspetti contano? Sicuramente sì, come ha detto ieri il moderatore, il numero degli abstract, il numero di progetti presentati sono quadruplicati nel corso dell'Oscosona quest'anno e questo è uno stimolo a produrre ricerca e presentarla per poter accedere a questi premi e confrontarsi con altre situazioni in cui si fa ricerca clinica, insomma, assolutamente sì.